Se non ci fosse la legge, noi non potremmo sapere, sappiamo i nostri diritti, o se dobbiamo cacere. Cari ascoltatori, buongiorno e auguri di buon anno. Certo, li facciamo, un augurio che questo anno sia amico per tutti voi e con l'occasione riprendiamo, o ragione avvocato, sempre con la presenza di graditissimi ospiti. Vediamo il benvenuto a Roberto Mari, che è il presidente dell'Associazione Tutela dei Diritti Malato di Novara e all'avvocato, amico e collega, Mario Monteverde, consigliere dell'Ordine e consigliere anche dell'Associazione. Buongiorno a tutti, grazie. Benvenuto. Allora, l'occasione per la quale oggi siete intervenuti o ragione avvocato è soprattutto l'organizzazione di un convegno che si terrà nell'aula magna dell'ospedale Maggiore di Novara il 18 gennaio sabato, dalle ore 9 alle ore 13, la salute nell'interesse della collettività. Io non sto a ricordare tutti gli anni trascorsi nell'Associazione dei Diritti Malato, ci sono ancora membri elementi storici come l'ingegner Cerese, non voglio fare torti ad altri non citandoli, ma abbiamo il Presidente Roberto Mari che da tempo è su questa linea dell'organizzazione pubblica, cioè di portare l'Associazione il più possibile anche a coloro che sono i nostri concittadini. Come nasce l'idea di questo convegno? Il convegno che nasce programmato per il giorno 18, direi senza esagerazioni e spero di non farlo, l'ultimo di quelli andati e il primo di quelli che verranno. Perché dico questo? Perché tempo addietro noi abbiamo già messo in campo ben quattro incontri aperti al pubblico, di cui tre centrati sul problema della salute, i primi due il rapporto medico-paziente, il terzo il fine vita che ha avuto una larga partecipazione. Noi riteniamo che abbiamo fondamentalmente due obiettivi molto forti, assistere coloro che hanno subito un torto nel diritto alla salute, ma anche creare eventi che possono partecipare tutti i cittadini nel valorizzare e sostenere questo diritto fondamentale. Lo si può fare soltanto con degli eventi pubblici. In questo caso ci siamo impegnati e speriamo di raggiungere lo scopo. Ecco, se la regia vuole mandare la locandina, eccola del convegno, velocemente gli argomenti sono ampi e sono la presentazione di Roberto Mari, l'intervento di Mariella Enoch per la promozione e difesa della salute, poi da parte dell'Ordine degli Avvocati due partecipazioni, quella dell'Avvocato Monteverde con la sicurezza delle cure e responsabilità e anche la mia con le disposizioni anticipate di trattamento. Naturalmente saranno sinteticamente esposte. Poi c'è un dibattito, ci sarà anche presente l'assessore Luigi Icardi, assessorato della sanità a Piemonte, sulla sanità pubblica e sul servizio sanitario. E alla fine, quello del Ministero della Salute, il Vice Ministro Pier Paolo Sileri sul punto sistema sanitario nazionale. Ecco, sì, io avrei una prima domanda ad un tecnico, giuridicamente parlando, che è l'Avvocato Mario Monteverdi. In buona sostanza la materia è stata un po', come dire, ordinata da questa legge intervenuta nel 24 2017, se non sbaglio. Ecco, oggi le tutele del malato quali sono, sia in ambito civile, brevemente purtroppo nel tempo, ma come si può muovere un malato che viene sia in ambito civile che penale? Che chiede aiuto alla giustizia. Chiede aiuto alla giustizia. E tu mi fai una domanda, che è una domanda, sempre ancora le domande, quando vai agli esami mi parli di questo argomento, e sembra che sia una domanda facile, in realtà è una domanda difficilissima. Oltretutto anche nei tempi... Esatto, nei tempi che voi ci imponete. La normativa, la 24 2017, la legge Gelli, va dal nome del relatore, interviene per dare ordine al tentativo che vi era già stato nel 2012 con la legge Balduzzi, che era il politico, non mi ricordo se poi era Ministro della Sanità o meno, mi sembra che fosse Ministro della Sanità, e questa normativa ha come sua base l'articolo 1, la sicurezza nelle cure, tanto è che mi pare che il tema che dovrò trattare è la sicurezza delle cure e la responsabilità. L'articolo 1 della legge Gelli è la sicurezza delle cure diventa la base fondante del rapporto tra paziente e medico. La legislazione è intervenuta dando dei principi che prima non vi erano e non erano per nulla ben definiti. Sostanzialmente la legge Gelli ha dato un'indicazione sulle cosiddette linee guida. Oggi le linee guida o le buone regole applicative sono diventate, laddove le linee guida non vi siano, sono diventate un qualcosa di assolutamente certo, cosa che invece sotto la legge Balduzzi non si sapeva esattamente quali fossero. Oggi si sa che le linee guida da rispettare devono essere dettate da società scientifiche che devono essere registrate presso il Ministero e queste società scientifiche poi devono accreditare queste linee guida. Questo è il primo passaggio importantissimo di questa riforma del 2017. Una maggiore certezza sia a favore del paziente e quindi una maggiore sicurezza in termini anche di una colpa specifica laddove queste linee guida non vengono rispettate a favore del medico, perché l'intento del legislatore è quello di contemperare la problematica che sta alla base della responsabilità sanitaria, responsabilità medica, contemperare la pretesa a una prestazione sanitaria perfetta che ha il paziente e dall'altro l'impossibilità di costringere il medico a subire sanzioni laddove il risultato non sia quello che il paziente si attende. Quindi abbiamo una ideologia che potrebbe essere sociologica di un paziente che vede la tutela del diritto alla salute come un qualcosa di assoluto da raggiungere in ogni caso come sua pretesa e dall'altra il medico che però è condizionato da questa pretesa con la cosiddetta medicina difensiva con costi di esami che sono del tutto inutili e che vengono invece predisposti al solo fine di tutelarsi e dall'altro lato il vero rischio è che il medico a volte rifiuti determinati interventi in corso suo che sa come necessari perché troppo rischiosi che a quel punto lo esporrebbero ad un'ulteriore e più pesante responsabilità. Quindi un contrasto tra due modi di pensare il modo che il legislatore ha dovuto necessariamente contemperare ed è uno sforzo immane, non è che con la legge Gelli poi alla fine ci sia stato un risultato decisivo perché dei punti oscuri che poi dovranno essere lasciati sempre all'interprete che poi è il giudice rimangono. Quali le tutele che possono essere attribuite al cittadino? Abbiamo un'azione di tipo civilistico o un'azione di tipo penale perché quest'ultima è sempre consentita laddove si parli di lesioni perché è chiaro che se il medico commette un errore e provoca delle lesioni perché vi è un peggioramento dello stato della salute del paziente e conseguentemente trattandosi di lesioni colpose sono comunque sempre previ a presentazione di querela procedibili davanti al giudice penale. La stessa situazione può essere invece trasposta in ambito civile con un'azione di risarcimento danni. Fermiamoci un attimo perché se no qui ci vogliono circa 30 ore per spiegare esattamente dove. Vorrei chiedere a Roberto Mari invece qual è l'approccio del cittadino normalmente quando arriva, quando telefona, quando chiede l'ausilio di qualcuno dell'associazione? Sì, diciamo che principalmente il primo aspetto è di ordine emotivo perché esce da una situazione di difficoltà e dentro questa situazione individua dal suo punto di vista un torto subito. Questo è il primo atteggiamento che si rileva e successivamente viene poi affrontato il merito della denuncia sotto il profilo medico come prima istanza. Verificare effettivamente con la persona esperta che abbiamo due medici nell'associazione che ci offrono questa consulenza gratuita se ci sono gli elementi dimostrabili sulla base della denuncia fatta dal cittadino. Quindi prima ancora che una tutela giuridica, una tutela tecnica per vedere. Come effettivamente attraverso i riscontri certi e dimostrabili qual è stato il percorso che ha prodotto questo eventuale danno riconoscibile. Successivamente se questi elementi vengono poi alla luce riscontrati si passa poi all'aspetto legale sentendo anche i legali dell'associazione che qui abbiamo due testimonianze che sono presenti per verificare se ci sono gli elementi per essere poi eventualmente portati in giudizio. Ecco, le controversie sanitarie hanno, se non ricordo male, come obbligo quello della mediazione. Sì. E a salvo forse un discorso poi di accertamento tecnico preventivo. Mario, vuoi darci due illuminazioni su questo? È collegato a quanto avevo chiesto l'amico Bastetti prima quali furono le tutele. È chiaro che se tu mi poni questa domanda dobbiamo dirci siamo in ambito civilistico. Perché se mi parli di mediazione siamo in ambito civilistico. Allora, se un cittadino si rivolge all'associazione e l'associazione svolge questa attività preliminare e di valutazione, l'associazione correttamente non fa altro che quanto la Cassazione insegna. Dice che il soggetto che ritiene di aver subito un danno deve sostanzialmente allegare l'inadempimento del medico. Quindi non è vero che la prova è tutta sulle spalle del medico, perché il cittadino che ritiene di aver avuto un danno alla salute deve comunque costruire la fattispecie dimostrando laddove vi è l'errore del medico. Perché non è che si può pensare di entrare in tribunale sostenendo sono entrato in tribunale, prima stavo meglio, sono uscito stoppeggio, adesso dimostrate tutto voi perché alla fine io devo solo indicare questa circostanza. No, bisogna costruire e dimostrare dov'è che l'inadempimento del medico si inserisce nella ragione di danno che il cittadino lamenta. Bene, detto questo, il cittadino, una volta che ha dimostrato questa serie causale, può entrare nel tribunale civile. Ecco, il nostro legislatore con il decreto legislativo 28 del 2010 ha posto una condizione di procedibilità a una serie di domande, tra le quali anche le domande di risarcimento danni da responsabilità sanitaria con relative conseguenti lesioni, ovvero sia la domanda laddove non passi prima da un organismo di mediazione, ne abbiamo anche uno noi come ordine degli avvocati, il giudice non potrà esaminarla e quindi laddove così non sia dovrà rinviare la prima udienza affinché venga eseguito, sperito, ma l'amico Bastetti lo sa perché è uno dei nostri mediatori. Quindi il tentativo di mediazione è obbligatorio, che poi nella materia specifica di cui stiamo parlando serva a qualcosa o non serva a nulla, lo dovrebbe dire per sua esperienza l'amico Bastetti, in realtà io sono convinto che non serva a nulla perché purtroppo per arrivare a comprendere se vi è una possibilità di transazione il povero mediatore dovrebbe ammettere a sua volta una consulenza, consulenza che non necessariamente, se le parti non sono d'accordo, può essere riutilizzata nell'ambito del giudizio civile successivo e quindi il povero avente diritto, chiamiamo così il soggetto danneggiato, si trova a dover sostenere prima i costi del suo perito, poi i costi del perito del mediatore assieme all'ospedale, se aderisce alla mediazione, se aderisce, che è un qualcosa che non accade quasi mai, anzi non l'ho mai visto, in tanti anni non l'ho mai visto l'adesione, e poi andare in tribunale e sperare che si sia l'accordo di utilizzare quella mediazione, cosa ben difficile perché se quella mediazione dovesse dare ragione al paziente o anche torto al paziente, uno dei due non vorrà mai che la consulenza venga usata, quindi purtroppo la mediazione nella materia specifica serve ben poco. Con la legge Gelli, infatti tu Antonio parlavi dell'accertamento tecnico preventivo, si è introdotto un altro strumento che è molto più utile, prima di iniziare il giudizio si propone domanda al tribunale, si chiede di nominare un consulente, quel consulente viene nominato e sì, quella consulenza un domani potrà essere utilizzato nel futuro giudizio che infatti potrà essere un giudizio di tipo sommario che è più semplificato, poi che si possa usare o non usare, si convenga usarlo o non usarlo è un discorso ancora un po' più complicato, ma tra i due sistemi qual è preferibile? Ovviamente il secondo è più snello, ovviamente il secondo è più snello, se si è di fronte a un danno però più complicato e alla fine più complesso forse è preferibile la mediazione perché se la controparte non si presenta a quel punto hai tutta la tua causa libera per poter dimostrare tutto il contrario di tutto. Ecco, quindi il discorso è che la tutela della salute, quell'aspetto emotivo di cui parlava Roberto passa attraverso gradi che poi possono molto affievolire questo aspetto. Comunque vorremmo tornare un attimo, per concludere la trasmissione, al convegno da cui siamo partiti che si terrà appunto il 18 gennaio in Corso Mazzini e l'ingresso è libero e dà anche diritto comunque dei crediti formativi per gli avvocati e vorrei chiederti qual è stato lo sforzo per radunare così tanta gente in una mattinata sola? Beh, siamo partiti molto in anticipo e quindi abbiamo distribuito lo sforzo in un tempo abbastanza lungo perché l'abbiamo pensato un po' quest'estate, forse anche prima e abbiamo per certi versi già esplorato il campo per mettere insieme delle persone innanzitutto autorevoli e che possono creare sia il prima che il dopo l'argomento tecnico, che sono l'argomento tecnico e il punto centrale delle due leggi che prima citava Monteverde e poi dopo c'è anche le disposizioni anticipate del trattamento che è una seconda parte tecnica non trascurabile che molti non sanno o comunque se sanno non sanno anche come dal punto di vista procedurale risolvere. Ora, se pensiamo un'anticipazione con Mariella Eno dopo che io ho detto due cose sull'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute, Mariella Eno che sicuramente dal suo postazione può esaminare la sanità oltre i limiti e i confini nazionali perché lei è presidente della pediatria romana del bambino Gesù e quindi ha anche dei collegamenti internazionali. Questo per così dire è un po' la base per l'argomento tecnico ma non si può dimenticare la politica e il governo delle situazioni che possono per così dire gestire il futuro. Sappiamo che la sanità in questi momenti ha delle esigenze ma anche delle difficoltà che devono essere superate, non per ordine ultimo e quello economico e quindi l'assessore e il viceministro, la loro presenza e la chiusura è un atto dovuto ed è stato uno sforzo. Benissimo, rimandiamo un attimo alla locandina del convegno e ringraziamo i nostri ospiti, il presidente dell'associazione tutela dei diritti del malato Roberto Mari e l'avvocato Mario Monteverdi. Grazie a tutti, appuntamento il 18 gennaio alle ore 9 nell'aula magna dell'ospedale Maggiore. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.